Salve a tutti, io sono TheLongamer e bentornati su TheDevilInMe. Oggi il mistero si infittisce ed il gruppo si ritrova separato dalle trappole di Diumeth ed inevitabilmente finiscono nelle stanze della morte preparate dal killer. Purtroppo qualcuno ci lascia le penne, mentre Charlie invece rischierà di diventare la torcia umana. Buona visione! Ottimo! Riprendiamo da dove abbiamo introtto lo scorso episodio. Il killer ha fatto la prima mossa e ha provato ad uccidere Erin, anche se tecnicamente la stava spaventando a morte. Se noi avessimo reagito, lui, in legittima difesa, paradossalmente, l'avrebbe uccisa. Tuttavia il gruppo ha capito che c'è qual quadra che non cosa e ha deciso di levare le tende molto in fretta, ma lo sappiamo tutti che non sarà così facile andarsene da questo posto. Ok, genio. Dove cerchiamo, Diumeth? Io non cerco, Diumeth. Guardo dove girare. E se lui se ne salta fuori, tanto meglio. Gesù! Del resto non ti importa nulla? Sì che mi importa. Dillo a Kate. Sappiamo entrambi che appena accenderemo la telecamera si piazzerà davanti all'obiettivo. Stronzo. Beh, effettivamente ha ragione. Tuttavia, visto quello che è appena accaduto, per quanto lui non ci creda, direi che l'idea migliore è per l'appunto di andarsene e tanti saluti. Oh no! Il contatore è salito a 180? Ma, ma, vabbè, questo vuol dire che sono morte due persone nel frattempo? Ma noi siamo tutti vivi? Quindi si tratta probabilmente di altre persone che si trovano nella struttura? Cosa è successo qua? Non... Non lo so. Qualcuno ha messo a suo quadro tutto? Va che disastro! Ok, diamo un'occhiata in giro. Charlie, fai attenzione. Ho sempre paura a toccare gli oggetti. Si sa mai che finisca in una trappola. Ok, abbiamo trovato il nostro primo quadretto della giornata. Oh! Ok, Charlie, non farti piantare uncini e via dicendo sul petto. A quanto pare sei allergico agli uncini. Ah, sono cose che capitano. Ok, siamo 3 a 3 per le premonizioni brutte e quelle meno brutte. Signor Dumet! La possiamo risolvere civilmente? Oh, ma dai! Cos'è? Cocchio gli è passato per la mente? Che poi siamo onesti è abbastanza ovvio che si tratti probabilmente... Non sa se il custode sa dove è finito Dumet. Del detective che negli anni 90 stava investigando su quell'emulatore di H.H. Olms. Abbiamo trovato alcuni nastri lo scorso episodio. Mi domando se troveremo altre prove in merito. Questa portale riusciamo ad aprire? Oh, oh, oh! Amy! Vieni qui! Pulisci il pavimento, donna! Oddio, di chi è il sangue? Ok, bene. Me la faccio sotto. È solo sangue, dai. Solo sangue? Scherzi? Non essere precipitosa. Possiamo solo dedurre che hanno trascinato qualcosa che sanguinava. E questa idea non ti preoccupa? Sì, è un po' strano. Un po'. Che devo dirti? Magari Dumet o il custode avranno trascinato dentro una carcassa di animale dall'esterno. Forse la cena. Oh, spero proprio che non sia la cena. Non mi do il cannibalismo io, santo cielo. Ok, è abbastanza... Allo spettacolo di stasera. Oh, ma che cazzo? Presentato da... Porco cane! Musica protetta da copyright. Ah, gioco perché mi devi fare incocchiare ogni volta. Ecco qua, dovrei colarmi di riattivarla più tardi. Grand'em Dumet. Dumet? Cosa? Non se n'era andato. Cretino, magari è una registrazione, non ti viene un dubbio? Anche quando ci trovavamo all'interno della limousine, l'assassino ha usato una registrazione di Dumet. Maronne, quanto è buio sto corridoio, non si vede nulla. Charlie? La prossima volta una torcina che non sarebbe male? Cos'è che abbiamo trovato? Un documento dell'FBI? Ah, mi fai partire un bel filmatino, gioco? Ho conosciuto l'agente Monday il 12 ottobre del 97 all'aeroporto O'Hare. Ero incaricato di accoglierlo allo sbarco. L'avevo già incontrato a un convegno sulla psicologia criminale qui a Chicago qualche settimana prima, ma dubito si ricordasse di me. Da bravo pivello ero piuttosto nervoso. Appena uscito dal corso di addestramento, mi trovavo a scarrozzare il famoso profiler celebrato da tutto il paese per il caso dell'Arkansas. La prima impressione che ho avuto di lui era di... Era di... Beh, non potete interrompermelo lì, porca di quelle hiperporche, eh? Porca boia, Jamie! Mi hai fatto cagare in mano, non mi aspettavo fossi dietro di me. Mi sa che abbiamo trovato un altro obolo. Perfetto. Che? Eh, sono cagato in mano. Sì, c'è qualcuno che sta soffrendo nell'oscurità. Bello. Già, è sangue di animale, Charlie. Tranquillo, eh? Non abbiamo visto molto altro personale quando siamo arrivati all'interno della proprietà. Infatti, la cosa è abbastanza strana. Non puoi gestire una struttura del genere da solo. Jamie, la devi smettere con sta storia. Porca la miseria. Sentito? Ti prego. Che cazzo? Oh, oh. Buongiorno, signore. Aiutami. Ah, è il custode? Ti prego. Farò. Stai. Che è successo? Stai bene? Era lui con l'impermeabile giallo. Oh, oh. Oh, oh. Fermo. Guarda. Cos'hai fatto, Charlie? Oh, no. Hai attivato una pressure plate. Bravo, Charlie. Non ti muovere. Oh, il custode fa una brutta fine? Se sposti il peso dalla pedana, il tizio viene trafitto da quella lama. Ah, brutto modo di andarsene. Che facciamo? Oh, porcaccia la miseriaccia. Buongiorno, signore. Questo è il vero serial killer. Se qualcuno solo ti stia domandando, sì, era il mio telefono di casa. Ho fatto un salto assurdo. Ok, riprendiamo dall'attenzione di alcuni secondi fa. Vai. Aiuto. Non riesco a vedere oltre la sua maschera. Potrebbe essere chiunque. No. Charlie. Charlie. Charlie, gli puoi fare del male. Gli puoi fare del male. Avanti. Indietreggio. Resta, indietreggio. Resta. Che cofio faccio? Sta cercando chiaramente di provocarci. Resta. Resta. No, no. Dobbiamo aiutare il tizio in qualche modo? Signore. Signore. Non faccio follie. Non faccio follie. Che fai? No, vabbè, ma sei un pezzo di erba. Ah. Ah. Il cuore gli serviva? Oddio. 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 Ora ci credi? Merda, dammi la mano. Andiamo. Cazzo. Correte via. Tanti saluti, gente. Non potevate accendere la luce prima, no? E ovviamente il tizio è sparito. E' rimasta una leggerissima macchia di sangue sul muro. Cosa ho fatto? Dobbiamo andarcene. Subito. Charlie. Eh? Andiamo. Charlie, come va il naso? Ha già smesso di sanguinare? Ora forse ci crederanno un po' di più, eh? Hai... Hai visto? La maschera. Che diavolo era? Tirate via tutto? State ostruendo la porta, idioti. No, 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 no. Uno scherzo. Siamo... Ci sono le finestre? Intrappola. Oh, cazzo. Che facciamo? Tiriamo giù la porta. Ok. Al tre. Uno. Due. Tre. Ma le avete viste le sbarre? Col cocchio che le muovete? Una finestra. C'erano le finestre in corridoio. Uscite là fuori, tanti saluti. Sentito. Sì. Sembrava un rumore meccanico, in effetti. Abbastanza inquietante. E ritorniamo dalla signorina Kate. Merda. Che fa? Ah, le pietre. Ok, giusto. Porca boia. Non farlo più. E non prendermi in giro. Scusa. Non vorrei che ti tagliassi. Quel sasso è molto appuntito. Beh, oltre che magico. È un cristallo diametista. Che aiuta a mantenere la calma generando energia protettiva. Lo so, mi ricordo. Se lo sai, non chiamarlo sasso. Forse dovresti cominciare ad assumerti la responsabilità delle tue emozioni, invece di affidarti a un cristallo spirituale. Non ha tutti i torti, in effetti, eh? Detto tra noi. Quando si tratta di credenze, convinzioni e vi dicendo, voglio dire, se non fai del male a te stesso, non fai del male al prossimo. Della serie, perché no? Se prendemi a sberle, mi fa sentire meglio. Eh, ti aumenta anche la circolazione sulle guance, è peggiore delle posi. No, ragazzi, non fatevi del male. Era un esempio, ok? Mi fa stare meglio. Mi fa stare meglio. Una cosa che tu non hai saputo fare. Ecco, allora si stronza però, scusa la franchezza, eh? Sì, forse ho detto una cattiveria gratuita. Scusami. Non importa. Non è il momento o il posto. Devo dirti una cosa. Prima tu parlavi di quel lavoro che ho rifiutato. Non ti ho mai detto la verità. Su cosa? Non era un lavoro, non proprio. Che vorresti dire? Te lo ricordi, Murray? Stava aprendo uno studio a Brooklyn, un atelier. Cercava un socio. È il tuo sogno? Già, ma non c'erano prospettive di guadagno. Pensavo avresti detto che era una follia, giustamente. Perché lo era? Confusione o provocazione? Qualunque cosa tu dici, sicuramente sarà una cagata, Kate. Cerchiamo di essere confusi e basta. E perché non hai accettato? Non potevi dirmi? Lo sapevo che ti incacchiavi. E dai. Le cose già andavano male tra di noi. Oh, no, no, no. Ora non dare la colpa a me. Hai fatto tutto tu. Lo so. Non ho accettato perché... Perché... It would have taken me away from you. Ah, ok. Perché non lo sapremo mai. Ok, non ho visto se ha tradotto. Perché mi avrebbe allontanato o portato via da te. Non ho potuto accettare perché... E cambia lingua di colpo. E proprio anche modo di parlare. impertinenza o sorpresa. Non ci avevo pensato, amore, torniamo insieme. Io... Non ci avevo neppure pensato. Oh, un po' di romanticismo. Vediamo se la relazione migliora una volta tanto. Io... Volevo... Dai, forza. Ce la potete fare. Che cosa vuoi che dica? Speravo le cose tra noi potessero cambiare. In fondo... Lo spero ancora. Va bene. Non serve aggiungere altro. Grazie. Dobbiamo andare. Torniamo da Erin e andiamocene subito da qui. Aspettate che non abbiano nascosto oboli o altre cose in giro. In ogni caso questa relazione è difficile da portare avanti. Avete visto nel precedente gioco la relazione fra il militare e la moglie si è salvata per puro caso. In realtà quando non stavo provando a salvarla si è salvata. Ma chi è che va in giro a chiudere a chiave le porte? Domette? Il suo piccolo aiutante giallo. Eh, il suo piccolo aiutante giallo. Ho fatto una brutta fine, ragazzi. Non ho neanche fatto caso se i token luccichi, no? Ma vabbè, dettagli. Aspettate. Stiamo andando in direzione corretta, gente? Mi sento perso un attimino. Lo strangolatore del campus colpisce ancora. Che c'è? Che cazzo è? Uno scherzo di cattivo gusto? Che cosa ci fa qui? L'hai portato tu? No. Quella è lei? Sì. È un articolo del 2012? È Shelby. Unghie abbinate? Dio no. Le avevamo sempre uguali. Quella è Kate da giovane? Ah. Una decina di anni fa, quindi. È lui. Cosa? È lui. Sullo sfondo. Lo conoscevi? Più o meno. Era uno di quei tizi che vedevi sempre in giro. Quelli che trovi sempre alle solite feste. È stata colpa mia. Lo sai che non è vero. La sera a chi è successo, avrei dovuto vederla. Dovevamo uscire a bere, c'era una festa. E il killer come sapeva tutto ciò? Ma io dormivo. Al campus era tassativo non uscire mai da sole. Shelby mi stava aspettando quella sera e... Ed è lì che l'ha aggredita. Va tutto bene. Non è per un cazzo, ok? Per niente. Io devo conviverci e ora qualcun altro lo sa. Qualcuno voleva che io la trovassi. Per inciso, Shelby è stata uccisa a colpi di solletico. Ci sono volute quattro settimane. Bruttissima morte, gente. Lasciamo stare che è meglio. Non mi ho idea. Non promette nulla di buono. Ma che cazzo? Venite, presto! Correte, correte! Ma porca la miseria! Mi sta chiudendo tutto, ragazzi! Sono pronto a quadratizzare. Di solito è quadrato. Grazie, dammi la mano. Vai, 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 lo ho quadratito tutto, lo ho quadratito tutto. Vai, 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 perfetto. Ce l'ho fatta. Non resisto. Dovete andarvene in qualunque cazzo di moto. Andate via, Cristo. Subito! Jamie! Charlie! Oh, no. Ma che cazzo è successo? Non ne ho idea. Però non promette nulla di buono. Oh, è sempre lì che fa il guardone, lui, eh? Non si muove. E adesso? Ci sarà un'altra via. Sì, strisceremo nei corridoi di servizio. Per forza. Ok, il trucco è molto semplice. Non entrate mai in nessuna delle sue camere. Avete studiato questo tizio per mesi? Sapete tutto? Di H.H. Holmes e delle sue tattiche. Ma che succede? Vi sta attirando in trappola, credo fosse ovvio, signori. Dumet. Che cazzo di problemi ha? Era nervoso in viaggia. Pensavo che fosse soltanto eccentrico. Puoi essere eccentrico senza essere un assassino. Oddio, tutte le porte sono chiuse, vero? Sì. Ok, vediamo se ci sono altri quadri. Vediamo. Hai visto Dumet scappare? Aspè. Sapeva che c'era un assassino e se n'è andato? Forse. O forse il tizio che abbiamo visto non era Dumet. E quello con la maschera, sì? Jamie e Charlie hanno capito che l'uomo che hanno incontrato non era il vero Dumet. Non ci voleva tanto, ragazzi, eh? Quella trappola era parecchio sofisticata. Progettata in ogni dettaglio. In modo che noi la trovassimo. Questo rende ancora più probabile che l'uomo del traghetto non fosse Dumet. Comunque sì, sta facendo il giochino delle pareti. Ma la cosa strana è che tecnicamente dovrebbe far rumore. Quindi vai, faccia finta di nulla che è meglio. Apre la porta. C'è stata un'animazione strana per un secondo. Ok, proseguiamo. Gente, facciamo finta di nulla. Vediamo un po' se si è aperto qualcosa. Questo non c'era. Credo. Il tizio è anche molto furbo perché conosce tutti i nostri punti deboli. Oh no. Ma che cazzo è una bambina? Oh, bene. Senti anche tu la bambina. Pensavo di essere impazzita del tutto. Da dove viene? Era una bugia. Ma ti dico, non è bugia. Ok, aspetta che ho trovato un altro obolo nel frattempo. Ok, beh, è abbastanza ovvio che la moglie di Dumet sia stata uccisa. Eh, scusate, del finto Dumet sia stata uccisa dal serial killer. La bambina neanche immaginava che la mammina fosse già bella che stecchita. Abbiamo trovato anche le sue scarpe là fuori. Ok, seguiamole la voce. Charlie, vieni. Piano. Cercate di tenerla a porta a pe... Ma siete degli idioti, dai. No, non entrate, ragazzi. Già Olms era in grado di chiudere le porte a distanza, praticamente. Non so come facesse. Oh, no. Ci sono tanti maiali. E sicuramente anche qualche cadavere umano. Bloccate la porta. In qualche modo. Mettici una sedia, uno scatolone, un... Guarda, è pieno zeppo di robe. Guarda, gli si chiudono le spalle. Guarda, ma siete degli imbecilli. Siete degli imbecilli. Ah, nel mio intimo c'è imbecilli, porco cane. Sono una matrioska. Cosa? Le bambole russe. Sai quelle bambole dentro le bambole. Stai impazzendo. Perché non è il momento. Siamo chiusi in una cucina. Dentro un hotel. Soli su un'isola. Oh! Perché uscissimo da qui. Come usciremo dall'hotel. Esatto. Avrete notato che quello non è un maiale? Cioè, magari era un porco come persona, ma a parte quello. C'è un'etichetta? Natalie Morello? Natalie Morello. Oh, ma stai... L'hai notata adesso? Era molto evidente, eh? Ok, la porta qui è chiusa. Sembra che quella laterale invece sia apribile. Oh mio Dio. Ok, sono tutte teste di maiale. Non tocchiamo nulla, gente. Charlie, forse c'è un'uscita. Guarda. Questa si muove. Forse si forza più facilmente. Stai indietro. Eh, è arrivato Super Charlie, guarda. Questo non me l'aspettavo proprio. Oh! No, 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 Charlie, Charlie, Charlie. Oh, è aperto l'accendino. Perfetto. Charlie? Credo sia svenuto. Charlie! Marda. È stato anche troppo rapido, in effetti. Jamie, come fai a uscire di lì adesso? E ritorniamo dalla povera Erin. C'era qualcuno con me. Aspetta, ma lei stava registrando? Io non riesco a respirare. Niente, vai ancora più indietro. Ecco, questa è la porta che si apre. E il rumore dei passi di Holmes. Chiamiamolo così per adesso. Non saprei come altro definirlo. O il vero Dumet. Ci sono due respiri. Differenti. Quello spaventato di Erin. Oh, porco la miseria. Erin? Devono sentirlo. No, ormai sei fregata anche tu. Oh, ma ce l'ha proprio con Erin, eh? Ma poverina. Dalle cinque minuti di tregua. Non toccare la maniglia, non toccare la maniglia. Ok, tutto tranquillo. Ragazzi. Ehi là? Ehi! Charlie! Mark! Jamie! Secondo voi impareranno che le porte si chiudono in automatico? Oh, porco boia. O si aprono in automatico. Oh, la polvere. Tanta, tanta polvere. Allora, faccio un piccolo ragionamento. Nello scorso episodio abbiamo utilizzato l'inalatore di Erin e ci ha fatto notare che ha un numero limitato di cariche, quindi ha un numero limitato di utilizzi. Ora, mi viene anche un dubbio. Olms, chiamiamolo così, Dumet, chiamatelo come volete, è stato lui a darci l'inalatore. Ma era il nostro inalatore? O potrebbe essere un inalatore che magari lui ha riempito di veleno, che agisce magari pian pianino? Mi viene un attimino di dubbi. E voglio dire, Erin può resistere senza inalatore? O mi schiatta male male? Ok, devo fare una prova. Devo fare una scelta? Mi piace come per lei abbia preparato tutte le stanze belle impolverate. Ciccia, prendi una federa, qualcosa. Oh, dai, forza. Smetti di essere così fifona. Due cariche basta abbiamo? Oh, no. Ok, cerchiamo di tenerlo da parte. Porca miseria. Non c'è bisogno di respirare la polvere. Prendi davvero un tessuto o qualcosa? Ok, non prenderò nulla. Ce la puoi fare. Resisti? Resisti? Erin non ha usato l'inalatore per calmarsi prima di entrare nella nuova stanza. Ok. Quindi vuol dire che sarà un pochettino più turbata? La sua vista è un attimino alterata? Potrebbe essere un problema? Erin, devi solo superare la polvere e andrà tutto bene? Autentico balsamo all'olio di serpente, estratto da cobre reale. Silverash Institute, delle truffe di proporzioni bibliche. Sarà probabilmente un'altra delle truffe di Holmes. E stiamo entrando al Silverash Institute. Ok. Questa è strana? Andiamo un po'. Ok, è ritornato a normale? Oh no. Perché ho l'impressione che quelli siano cadaveri veri, gente? Sì. Probabilmente li ha svuotati e riempiti di parti meccaniche. Oh! Sarebbe capace di farlo. Un istituto per l'igiene mentale? No, Erin, stai lontana. Orca boiazza. Che faccio? Tocco? Io non è che sia molto contento di toccare? O di farmi toccare? Ah, ho notato adesso che anche Erin ha la torcia. Ok, qui c'è qualcosa che lui vuole che notiamo. Di cosa si tratta? Il cellulare di Jamie? Fanculo, Jamie. Laurel. Chi è la ragazza nella foto che hai postato? Rispecchia il tuo tipo al 100%. Sei troppo prevedibile. Jamie. Chi? Erin, ma per favore. Il mio tipo è una tigra indomabile, non una fatina di boschi. Laurel. È timida? Jamie. È una svampita. Ha sempre quell'espressione smarrita e confusa. Che stronza! Ma, vabbè, non sappiamo di quando è il messaggio. Per dovere di cronaca potrebbe essere un messaggio magari di quando si sono conosciute all'inizio. Prima che si accendesse la fiamma tra loro due. Sembra davvero l'ufficio di un dottore. Un vecchissimo ufficio. Abbiamo trovato anche una lettera. Vediamo un po' di cosa si tratta. Gentile signor Thompson, perché non la smette di tormentarmi? Allora, scuola elementare di White Hawk, 10 ottobre 1972. Gentile signora Monday. Lei ha la madre del detective, quindi siamo 20 e passa anni prima degli omicidi. Da settimane cerco di contattarla telefonicamente per parlare con lei del comportamento di suo figlio a scuola. Da qualche tempo, Hector ha iniziato a mostrarsi aggressivo e minaccioso nei confronti degli altri bambini. Questa settimana, durante la lezione di educazione fisica, l'insegnante ha notato gravi lividi e contusioni sulle gambe del bambino. Siamo molto preoccupati per lui. Ne prego di contattarmi il prima possibile per discutere del problema. Il preside. Ok. Troppe informazioni a proposito del suddetto detective. A meno che non vogliono ancora una volta depistare le nostre indagini, anche se il killer più che altro è intenzionato a farci cacare sotto a profusione. Qui c'è un registratore. Vediamo un po' se scopriamo qualcosa sull'indagine. Oh, spavento! Un'intera stecca stavolta. Cerchi di prendermi con le buone, eh? Allora, niente domande? Che ti succede, Maldi? Mi sembri diverso. Ah! Riconosco quella luce nei tuoi occhi, furbetto. So mantenere i segreti. Tutti ne abbiamo. Il pubblico ministero vuole un numero da me. Lo sapevi? Ma certo che sì. Numeri! Hanno accusato Holmes di 27 omicidi, ma noi sappiamo che era vicino ai 200. Riesci a immaginarlo? Speravo di avere più tempo per provare a batterlo. Ovviamente è emersa la storia delle agenti immobiliari. Dopotutto loro avevano famiglia. Ma i numeri che mi chiede il procuratore, anche lui saprà che esistono persone reglietti, disadattati, gli scarti della società, che tutti quanti fanno finta di non vedere. E quando spariscono, chi lo nota? Oh no, è su di loro che ha fatto le prove, probabilmente. Mio padre mi diceva sempre di lasciare un'impronta nel mondo. Non ho mai capito cosa intendesse, finché non ho visto la prima ragazza sanguinare. Vabbè, era quel periodo del mese, avanti, buon uomo. Io la definisco arte. La mia firma sulla società. Non è omicidio, è una risposta estetica alle esperienze che il mondo mi ha offerto. Ah, ma certo. Chiedi a chiunque di elencare i serial killer che conosce e ne nominerà cinque, dieci magari. E poi prova a chiedere i nomi dei detective che li hanno catturati e farà scena muta. Non dirà un bel niente. Non sono nessuno. Non importano a nessuno. Nessuno gira film su di loro. Nessuno mette le loro facce sulle magliette. E a nessuno frega un cazzo. Vabbè, gli esseri umani sono attirati dal macabro, si sa. Non è una novità da quel punto di vista, quindi... Io ho lasciato la mia impronta. E tu? Ah, gli dia tempo. Ne lascerà di impronta in giro, spero. In modo tale che la polizia possa investigare e formulare un caso. O ancora meglio, spero che ci schiatti e tanti saluti. Ok, possiamo esaminare qualcos'altro. H. H. Holmes. Cioè, ha fatto tutto a regola d'arte pe davvero, eh. Che poi è abbastanza ovvio che Holmes avesse una fissazione per Sherlock Holmes, si riteneva più intelligente. Era una versione al contrario, per l'appunto, del famoso investigatore. Scaccia il demone dell'alcol con la cura miracolosa del dottor Holmes. Troppo a lungo la dipendenza da alcol è stata stigmatizzata puramente in termini di debolezza caratteriale e mancanza di tempra morale. In realtà, le recenti scoperte di importanti scienziati dimostrano che l'alcolismo è una malattia, esattamente come la sifilide o il colera, e in quanto tale richiede una cura. Sebbene siano ora disponibili dei trattamenti contro l'alcol, l'avidità dei produttori li rende inaccessibili alle tasche del paziente comune, tanto più quando il paziente stesso è stato ridotto sull'astrico dalla sua malaugurata patologia. Questa grave emergenza pubblica è ora contrastata da uno stimato medico di Chicago, il dottor Henry H. Holmes, che ha fondato a sue spese il Silverash Institute per offrire terapie economiche alle masse di alcolizzati. Oh no, e ci faceva anche gli esperimenti, magari. No, grandissimo bastardo. Ok, al diavolo, lo faccio, ci clicco. Sarà brutale, probabilmente. Ciao ragazzi, che fate? No, ma che diavolo! Saranno i corpi della famiglia Morello, probabilmente. Oh no. Erin, non toccare nulla. Eccola lì che deve toccare. Ti erreduizzo la nonna! Ti erreduizzo la nonna! No, cos'è questo schifo? Ma che schifo! Gesù! Che diavolo! Perché? Perché fare una cosa del genere è troppo malata, santo cielo? Ok, proviamo ad aprire questo. Cosa c'è dentro? Nulla. Tutto tranquillo? Ok. Almeno non c'è un serial killer pronto a sbranarti la faccia. È già qualcosa, Erin. Erin, ehi! Jamie! Erin, ci sei? Per nulla è inquietante tutto ciò. Mi senti? Che succede? Cosa? Sei in pericolo, Erin! Ma come? Devi ascoltarmi. Fai come ti dico. Confusione che succede o accusa? No, 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 no! Confusione! Non sta accusarla adesso! Che te frega! Jamie, che succede? Dove sei? Io non... C'è un armadio lì vicino. Entra dentro, sbrigati. Ma che significa? Erin, nasconditi! Perché me lo stai dicendo? Che succede? Adesso Erin, fidati di me, ok? Come fa a sapere? Lei dell'armadio... Oh no! Non sta cooperando col killer, vero? Quella porta era chiusa fino a un secondo fa. Ho controllato. Scappo, nasconditi. Scappo, nasconditi. Scappo, nasconditi. Nasconditi! Ok, voglio fidarmi di lei. Voglio fidarmi di lei. Ti prego? Dimmi che non è la scelta sbagliata. Te lo chiedo in ginocchio. Va tutto bene. Va tutto bene. Non va così tanto bene. Le mie mutande sono traumatizzate. Fidatevi. Signor Holmes! Eh, vabbè. Insomma, signor Monday, come coca si chiama? Stai buona? Stai buona? Non mi dire che gli viene un attacco d'asma adesso. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Stai calma. Sono fermo. Sono pronto a premere X se c'è il quiz time, quello del battito del cuore. Lui lo sa. Secondo me lui lo sa e vuole giocare ancora un po' al gatto, il topo. Oh no. No! Ci vediamo dopo. Erin non ha trovato niente di sospetto nel Silver Ash Institute. Sospetto. Aspetta un attimo. Charlie, la nota di sfratto. Non vorrei che il serial killer volesse farci sospettare l'uno dell'altro. No, di solito non succede mai in questi giochi. Se fosse un qualunque altro gioco sarebbe un altro paio di maniche. Ok, Romeo e Giulietta, buongiorno, eh. Charlie! Jamie! Ehi là! Dove sono finiti? Che sta succedendo? Siamo chiusi dentro. Così pare, sì. Aspetta. Cosa? Hai sentito? Sono loro. Da dove viene? Eh, io vorrei prendere a tutti voi. Giù. Cosa ha fatto stavolta? Ma no! Sono il sogno della vostra ironia e che fa parte del mio ruolo di patriarca della famigliola. Mark e Jamie, voi due da soli lavorate per dieci. Kate, nonostante i litigi, tu del programma sei l'anima. L'attore in pubblico. Che cazzo significa? Che senso è fare una replica di ciò che è accaduto a cena con i manichini? No, Mark, non ti avvicinare. Non toccare nulla. Mark, cosa fai? No, non le toccare. Diciamo turbamento? Io sono molto preoccupato. Ma stiamo davvero esagerando. Non so in cosa ci abbia trascinati Charlie, ma se trovo Dumette gli spacco la faccia. Indaga sui manichini. Ma te sei scemo nel cervello. Li devo palpeggiare? Oh, Cristo. Ma è identico a lui. È molto simile, diciamo. Qualcuno li abbia messi insieme solamente in un paio di ore. Signori, è abbastanza ovvio che vi abbiano attirato in trappola. Ciccia, ti vuoi levare che devo palpeggiare i manichini? Ok, stiamo esagerando. Sì, quello di Kate l'abbiamo visto mentre lo stava preparando. Però non c'è nulla di normale. Come ha fatto a replicare anche i gioielli e il resto? È bravo. Sto tizio è veramente bravo. Ok. Maronne! Mi dovevi proprio passare dietro. Mo' che succede, gente? Che è stato? No, non questo. Non questo. Ok, già puoi fare l'unino. Tan, tan. Non è difficile. Tan, tan. È peggio quando sarà più avanti che saranno a ripetizioni tipo 4-5 tutti assieme. Non sappiamo chi sia. Se fosse l'assassino siete comunque belli che morti. Non fate follie. No, non colpiscono nessuno. Non colpiscono nessuno. Oh, era Jamie. Ma porca c'è la miseria. Grazie a Dio. È così bello vedervi, ragazzi. Dobbiamo andare subito via da qui. Ah, per te è normale tutto ciò? Empatia. Per fortuna stai bene. Volevo sebbene. Quando il muro si è chiuso, io... Per fortuna stai bene. Domet ha ucciso il suo custode. Cosa? Davanti a noi. Domet. Una messa in scena. Perché la bussola ha cambiato? Ah, perché abbiamo ottenuto nuove informazioni sul signor Domet. Perfetto. E le abbiamo condivise soprattutto. Indossava una maschera e so bene cosa può sembrare, ma dico sul serio, ora ce l'ha con Erin, dobbiamo muoverci. Ma, un attimo, Charlie dov'è? Non lo so, ci siamo divisi. Cavolo, non posso crederci. Così, quando troveranno i nostri cadaveri sulle sponde del lato... È un cazzo di scherzo. Scusa plausibile. I nostri... Morti. Cristo, fate silenzio. Morti. Ayo, Giorgio, ci hai incantato il disco. Morti. I nostri... Oh no. Com'è stato? Oh no, 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 no. Che schifo. Questo... È finto. No. Una replica... Di un animale o roba così, per forza. Quello è molto umano. No, 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 non ci credo. Oh, è vero. È vero, cazzo. Ve l'avevo detto. Questa è una follia. Andiamo via da qui. Ok, è la prima cosa sensata che avete detto in questo episodio? Non separatevi, ragazzi. Rimanete uniti. È chiusa. Ma che succede? Anche quella da cui sono entrata. E ciao, ne. Sfondate una finestra, gente. Ti piace giocare? Fatti vedere. Vieni. Giochiamo insieme, dai. No, non provocarlo, Mark. Che follia. Ok. Non mi direi che torniamo da Charlie. Ovviamente torniamo da Charlie. È quasi mezzanotte nel frattempo. Charlie? Come va la testa? E ha preso una bella botta qua dentro, purtroppo. Charlino? Ce la fai ad alzarti? Oh, dov'è il suo accendino? È sparito. Era lì prima. L'assassino avrebbe potuto ucciderlo quando voleva. Ma no. Lui vuole che partecipi al suo gioco. Si è un po' rintronato al cervello, ma a parte quello. Ma che vada, migliora. Quello che mi inquieta è la lucina rossa all'interno della stanza. Iiii. Maronne, mi sembra di essere davvero in solo enigmista. Devo uscire. Ma va? Ok, diamoci un'occhiata in giro. Purtroppo Charlie non ha neanche l'accendino con cui far luce. Jamie? Ehi là? Jamie? Eh, ciao ne. Io sto bene. Fotte sega. Mi sei sempre stato sulle palle, capo. Allora, abbiamo una chiave. Oh! Che cocchio! Bastardo maledetto. Oh no. La premonizione. Charlie? Quella in cui muori bruciato vivo. Ok. Ci aiuterà sicuramente a superare l'enigma. Chiave della cella. Va bene. Ammette anche le trappoline per ferirti il bastardo. Hai capito? Non vuole solo ammazzarti, vuole proprio farti soffrire uno sfacelo. Allora, diamo un'occhiata in giro. Abbiamo trovato delle foto di gente morta, peraltro. Probabilmente riguardano l'indagine dell'assassino nell'Arkansas. Vediamo un po'. Assassino di Chicago, vittima 2. Causa della morte, ferita all'addome. I denti della vittima sono stati asportati. Perché? Perché dovete portarvi via il souvenir. Ma porca la miseria. Foto numero 1. Uila. Progetto non identificato, numero 2. Hai letto il mio rapporto sul primo? Stesso modus operandi. Maschio con varie lacerazioni. Le lesioni sul basso ventre sono simili a quelle della prima vittima. La forma della ferita d'ingresso suggerisce che l'arma dell'omicidio potrebbe essere la stessa. Un vibratore gigante. Credo che sia un collezionista. Questa volta ha reciso l'orecchio sinistro. Incisione netta. Eseguita con un bisturi o una lama di rasoio. Un lavoro pulito. Ben eseguito. Scarsa presenza di sangue. Probabilmente la vittima era già morta da 30 o 40 minuti quando l'ha fatto. Questa in effetti è una novità. La prima vittima era viva al momento della rimozione. No, non volevo saperlo. Immagino il caos e le grida. Sta imparando. Sì, fallo dopo a sto punto. Mio Dio. Ok, sì. Charlie, metti la via. Quello che mi preoccupa è che il tizio che sta imparando probabilmente è il caro buon vecchio investigatore barra detective. Un libro? Potrebbe essere un registro della General Contractors. Parlerà probabilmente dei lavori che hanno fatto gli operai mentre sistemavano la struttura in questione. Oh ragazzi, non vi sto a leggere tutto. Do giusto un'occhiata veloce veloce pure io. Va da sé che molto probabilmente mano a mano che andavano avanti i lavori cominciava a sparire la gente. Il vero Holmes, se vi ricordate, rimpiazzava gli operai quasi ogni settimana così che nessuno sapesse il progetto nella sua interezza. Ryan mi ha scritto che la madre non sta bene, eppure sapevo che era morta anni fa. Sì, sì. Li stavo uccidendo praticamente uno a uno. Stile 10 piccoli indiani. E in effetti abbiamo un nuovo segreto. Registro di un capomastro. Le sue note esprimono preoccupazione perché un crescente numero di operai stava lasciando l'isola. Sì, lasciando l'isola tra virgolette. Che succede? Ho sentito... C'è uno spioncino davanti a te ciccio. Che diavolo era? Mi stava sbirciando? Non mi dire che si vede lui attraverso quello spioncino davanti ai miei occhi. No! Mi sono perso un dettaglio veramente incredibile e forse, signori, è meglio così. Charlie? Tira quella leva. Vediamo un po'. Ridiamo corrente. Sperando che non ci si ritorga contro. E dai, è ripartita la musica classica. Facciamo che per sicurezza tolgo la musica onde evitare problemi di copyright. E proseguiamo nella stanza adiacente. Buongiorno. C'è una bambolina? Oh, è una mia impressione. Vediamo un po'. Oh no! Guardate la porta là davanti. Sei in trappola anche tu, eh? Beh, se riesco a uscire ti manderò a prendere. Charlie, sei completamente fuori di testa? Quella è chiaramente la porta di un inceneritore. Oh no! È quella che abbiamo visto nella visione. Ci scommetto quello che volete. Ok, le varie porte sono tutte chiuse dalle varie leve. Perché mi fai superare una prova del genere? Vediamo un po' e si dovrebbe aprire? Yeeey! Come per magia! Sembra proprio un carcer. Fa anche lo stesso identico rumore. Il vantaggio è che in teoria lui non le può chiudere. A meno che non siano gestite da un secondo sistema separato. Ok, tiro automaticamente anche alla prossima leva senza guardare. Oddio mio! Tanto comunque deve farci entrare nell'inceneritore. Oh no! Mi sa che avevo ragione. Non jumpscare armi. Che ti picchio male la nonna. Eeeh... Sì. Mi stava sbicciando. Mi stava guardando sporco pervertito! Oh oh! Guarda che caldaie gigantesche! Ok. Fa tutto bene. Charlie? Passo da una parte all'altra? Sperando che non ci chiuda dentro il fetente. Ok, fin qua tutto bene. Cerchiamo di memorizzare il percorso della serie. Si sa mai? Non mi pare che ci siano altre prove. Aspetta! Oddio! Non toccare i cassetti. Eeeh... Non gescheratemi. Chiuso? Non è un problema. Sono pieno zeppo di biglietti da visita. Eeeh... Ah, era tutta sul lato destro. Tre ore come un pirla a mettere le tessere in mezzo alle serrature. Ah, è solo un altro obolo che si muoveva in maniera imbarazzante. Nulla di che purtroppo. Vabbè, Charlie, portali via. Siamo a dieci nel frattempo. Perfetto. Il signor morte, noto in più come curatore, sarà contento di riaverli indietro. Opporetto, li ha persi pure lui, eh. Ok, siamo in un'ulteriore stanza in cui non c'è nulla. Se non una leva con tre fuochi. Eeeh... Charlie? Leva con tre fuochi? Non è un buon indicatore. Oh, porca miseria. Chi è che urla? Ho condannato a morte qualcuno? Charlie? Cos'hai combinato? Oddio mio. Ok. Fuori di qua. Fuori di qua. Fuori molto rapidamente. Sì, la porta è aperta. Corri, corri. Non vorrei che ci bloccasse dentro in qualche modo? Aspetta un attimo. Dov'è finita la bambolina? No! La mia bambolina, ma come? Mi c'ero affezionato. Era l'unica bambolina di franco esistente? Ecco, guardate quanto è cretino. Guardate quanto è cretino. Entra all'interno. No, il pacchetto di sigarette. Ok. E Charlie? Ci entrerebbe solo per prendere le sigarette? E non si fa due domande sul perché un pacchetto di sigarette sia dentro un maledettissimo inceneritore, Charlie. Un maledettissimo inceneritore. Hai visto che ci sono porte che si aprono e si chiudono e tu non la blocchi. 8 miliardi di oggetti. Che poi devo ancora capire come faccio ad aprirli e chiudere alla distanza. Servono meccanismi, ciccio, eh? Ma vabbè. Potere dei videogiochi. Charlie, cercherò di non farti morire ma non faccio promesse. Ma ciao, belli. No. Mi attenzio al discorso. Sono vera. Sarà la migliore sigaretta della mia vita. Già, sarà un'esperienza focosa, ciccio. Oh, ma che cazzo. Vuoi l'accendino, Charlie? Tranquillo che tra un po' ne avrai di fuoco a sufficienza. Oh, no. Charlie? Lo sai che non puoi uscire di lì? Sei bello che fregato? Che sta cercando di fare? Eeeh, certo. E se è leggermente incastrata, arrugginita o altro? C'hai magari una bottiglietta di svitol da qualche parte? C'è una gratta sotto di noi. Potrebbe riuscire a utilizzarla, in effetti. Dai, tira, ciccio. Oh, no. Ha attivato il gas. Ehm. Signor Finto Holmes? Signor Dumet? Guardi, smetto di fumare? Improvvisamente mi è passata la voglia delle sigarette? Ehi! Ce ne sono? Sono qui! Ehi! Salve! Come sta? La possiamo risolvere civilmente? Lo prendo come un no. E lo sto anche per prendere in quel posto. Oh, no. Che succede? Oh! Poetico bastardo! No! Non accendere l'accendino, ti prego. Che fai? Non... Non farlo? Non farlo! Fermo! Ti prego! Fermo! Ti prego! Wow! Ok. Ehm. Charlie? Charlie? Devi trovare una via d'uscita, ciccio? Pensavo partissero subito alle fiamme da nazione. No, non denudarti. Non è quella la soluzione. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Non puoi tentare di aprire la porta. È blindatissima. Ehm... No, no, no. Solleva la gratta. Solleva la gratta. Quando ho avuto la premonizione, Charlie aveva la manina fuori dalla porta. Ed moriva bruciato. Tira. Sono pronto a quadratizzare se serve, Charlie. Vai tranquillo? Ok. Ok, buono. Ma siediti anche un attimino, eh. Vedi che se non avessi fumato probabilmente avresti avuto molta più forza. Charlie, non arrenderti! Continua a sollevare la gratta. Che cocchio! Forza! Ho capito che sarà leggermente bollente. Aprierti, cazzo! Tieni... Aprierti, cazzo! Dai che ti abbrustolisci male, se no! Sì. 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 Sia rifatta. Avanti, spostala. Dimmi che il tunnel porta da qualche parte. Beh, mica rimane lì sotto, vero? Ma è follia allo stato puro! Oh, sempre meglio che là sopra! Ma il calore deve essere veramente lancinante. No, cocchio, non sopravvivi. Ah! Ah! Sì! Ora capisci come si sentono le tue sigarette, Charlie. Ok, teoricamente vivo, gente. Teoricamente, credo, spero, mi auguro, che sia abbastanza vivo. Ah! Non mi dite che mi sia fumicato Charlie. No! Doomè, sadico, bastardo! Oh, mio Dio. Lui ci goda a vedere la gente soffrire, eh? Hai capito. Buono, signori, io direi che per questo episodio ci siamo traumatizzati abbastanza. Come potete vedere, siamo riusciti ancora a salvare i nostri protagonisti, ma mi domando ancora per quanto. Nei commenti fate sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o vi aumento decisamente tanto la temperatura della stanza. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao, ciao!